Tu lo sai, ormai negli anni da noi sono passati tantissimi personaggi, ci sono passati ovviamente un po' in qualsiasi tipologia di artista. L'Elemora rappresenta, rappresentato e rappresenta tuttora uno dei punti fondamentali, dei punti cardine di quello che è il management delle agenzie in Italia a livello assoluto. Quindi in quanto tale noi abbiamo voluto fortemente la presenza, ovviamente grazie all'amicizia anche con il figlio Mirko e anche il supporto di Fabio Rondinelli che è nella sua scuoleria, per poter avere qua, per poter consigliare oggi ai nostri clienti veramente il fashion. Siccome ormai la tendenza della giugneria è cambiata diametralmente, ormai si segue tanto la moda, i personaggi lanciano la moda, lui che è il top dei personaggi, che è il manager dei personaggi di successo, non poteva altro che dare buoni consigli oggi. Sono molto contento di essere qui alla gioielleria Megna e poi di stare vicino oltre alla gioielleria, perché per me sono persone di famiglia, ormai qui sono di casa, ma vedere all'opera un grande big come l'Elemora. Grazie. È vero, non l'ho mai fatto il commesso in una gioielleria, ho fatto tante altre cose, ma il commesso mai. Io porto pochissimo, porto questo perché me l'ha regalato mia figlia e mio figlio, se no io non porto nessun gioiello, proprio per scelta di vita. Catanzaro ha un sacco di amici, la Calabria è una terra che amo, la Calabria ha tutto, il mare bello, il food meraviglioso, ci sono delle cose da vedere qua in giro che anche oggi nei piccoli giretti che ho fatto ho visto e poi è una terra ricca di tante situazioni che pochi sanno, perché ci sono dei posti da andare a vedere che sono, è da apprezzare, che non ci trovano in giro. Grazie.